Inciamale, malissimo, il processo di pace tra governo etiope e i ribelli del Tigrai. Se è vero quel che dice Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, di origini tigrine, dopo più di una settimana dalla firma del cessato il fuoco, nella regione non sono arrivati né cibo né medicine, malgrado sia uno dei punti dell'accordo mediato dall'Unione Africana, che oltre all'assistenza umanitaria e alla protezione dei civili prevede il disarmo, il ritorno dell'ordine pubblico e l'immediato ripristino dei servizi. Le parti ne discuteranno martedì prossimo in un altro ciclo di colloqui a Nairobi, ma due anni di guerra, un conflitto feroce che ha fatto migliaia di morti e feriti e centinaia di migliaia di sfollati, hanno lasciato il segno, anche sulla reputazione del presidente etiope Abiy Ahmed, Nobel per la pace nel 2019 per la fine della guerra con l'Eritrea, che però l'anno dopo ha mandato nel Tigrai l'esercito per piegare il fronte popolare di liberazione del Tigrai. Alla fine ci è riuscito, ma dopo una strenua resistenza da parte dei guerriglieri guidati da Debrezion Gebre Michael. Come al solito, chi ha pagato il prezzo più alto è la popolazione. Anche Etiope, visto che il secondo paese più popoloso dell'Africa, 115 milioni di abitanti, è in piena crisi economica e ambientale. La siccità sta facendo disastri.